Tutto pronto per la quattordicesima edizione del Mango Music Fest, in programma dall'11 al 14 luglio al Parco Il Prato di Arezzo, diventato il nuovo spazio della manifestazione. Quattro giorni di musica e appuntamenti ogni sera a partire dalle 18 a ingresso completamente gratuito. Tra gli artisti e tesi sul palco quest'anno anche Cosmo, Fran Quintale, Willy Peiote, i ministri e molto altro ancora. Cambio di location, una sfida nuova, bellissima, molto difficile, però vediamo che comunque sta funzionando tutto. La città credo che sia abbastanza consapevole che c'è una cosa bella, importante, nuova, che sarà il Prato e noi abbiamo messo tutto quello che si poteva, tutto l'impegno, lo sforzo possibile per fare una roba bella. Ma oltre al programma musicale sono state confermate anche le edizioni parallele del Mango Cult, il palco letterario del Festival, nel cuore di Piazza Grande sotto il celebre alloggiato del Vasari e il Mango Cinema presso l'Arena Eden. Primo appuntamento con la musica, mercoledì 11 luglio, si parte alle 18 con i vincitori del concorso Suono Dunque Sono, per chiudere la giornata con il sound senza frontiere di Selton e l'energia pop con le influenze rap di Frank Quintale. Gli artisti line-up della seconda serata sono invece il duo Vito e Clap Your Hand Seye e il rap infocato di Jamie Tights. Tra gli headliner di venerdì anche i ministri che tornano sul palco del Festival Aretino dopo l'esperienza del 2009. Chiuderà infine questa edizione del Mango Music Fest Cosmo con il suo ritmo coinvolgente. Involgente Involgente